mentre le riqualificazioni del centro urbano continuano a buttare cemento e soldi pubblici che potrebbero essere destinati in tantissime zone di periferia siamo venuti in visita in una delle tante traverse abitate del litorale sud di termoli a rio vivo precisamente in via rio del croccolone per denunciare un piano regolatore atteso da più di un decennio carenze di manutenzioni e i disagi che quotidianamente vivono i residenti di questa traversa ed altre ancora in attesa di una riqualificazione e di una messa in sicurezza dagli anni 90 se non prima gli anni sono trascorsi diversi politici sono venuti in soccorso con svariate promesse in sede di campagne elettorali ma ad oggi il canale di scolo di vierio del croccolone come tanti altri continua ad essere bonificato una volta all'anno in tarda stagione estiva con residenti che continuano a pagare un servizio di bonifica del tutto insoddisfacente la cunetta perennemente invasa da acqua stagnante presenterebbe una pendenza ormai compromessa dai mancati interventi con canneti ed erbacce che oltre ad ostocolare il corretto flusso delle acque piovane sono diventati un pericolo per i bambini per la presenza di serpenti insetti e topi che puntualmente si presentano nelle stagioni primaverili ed estive durante la visita abbiamo constatato una totale assenza di illuminazione pubblica l'unico lampione presente è posizionato all'inizio della traversa ed è fuori uso da circa due anni infine abbiamo raccolto diverse testimonianze di furti e rapine subiti dai residenti negli ultimi anni a questo punto cosa chiedono i cittadini che le bonifiche dei canali siano effettuate almeno due volte all'anno ed una maggiore illuminazione pubblica che possa garantire più sicurezza e tranquillità ai residenti siamo in piena campagna elettorale quale momento migliore per avere risposte concrete per rio vivo al contrario saremo sempre pronti a denunciare le mancate promesse da ezio varrassi rio vivo via del croccolone per il momento è tutto un saluto a presto arrivo